Sì, sono Arcadino Hammer e come va? Buonasera, in realtà serve un buongiorno perché il primo marzo, lo so, YouTube People di cui vi parlerò dovrebbe uscire una volta al mese, quindi in febbraio, ma essendo uscito il primo marzo poi recupererò in marzo con un altro YouTuber ed è un format a cui tengo tantissimo perché non è una recensione in un anime, un film o una serie tv o altro, ma tratta di che cosa? Dei miei YouTuber preferiti, cioè quelli che seguo essenzialmente, quelli che mi danno qualcosa e io vi ho spiegato l'altra volta, ho iniziato con Yotobi, che non è tutto oro quello che luccica, quindi ci sono anche dei piccoli difetti, comunque sono YouTuber che mi piacciono, non è dissing questo. Ho avuto dei commenti di qualcuno che dice, insinua che io lo faccio per avere attenzione, ma tu parli di quelli più grossi di te? No, io lo faccio perché voglio condividere con voi quelle che sono le mie passioni, lo faccio perché mi piace farlo, quindi è inutile che mi scrivete, non hai bisogno di così di attirare l'attenzione che poi nessuno te lo guarda a sto video, quindi non cambia niente, ti sei buttato nel ridicolo. No, lo faccio perché mi va essenzialmente e sono contento, quindi incominciamo subito, anche se vi invito a iscrivervi, a supportarvi, questo è ovvio, 1250 iscritti, ci arriviamo o no? Dai, abbonatevi se vi va col tasto qua sotto, condividete, ho i social, è tutto scritto, dai, nei banner. La mia storia con Falco Nero, la casa dei Falchi, cioè con Davide, lo conoscete se siete qua. Non è una sponsorizzazione né niente, metto le mani avanti. Ora, devo dire che in questo anno, anche se io lo conosco da più tempo in realtà, questo anno e mezzo che è un po' difficile per me, alcuni lo sanno, e ho avuto tanti momenti difficili, eh lo so, come tutti, non è che adesso stiamo qua, e quindi spesso YouTube, quando lavoro, quando monto, quando ho anche delle idee, devo preparare dei video, sono, i video che seguo, mi aiutano a rilassarmi e a darmi delle idee. E secondo me, il nostro Falco è uno bravo, molto bravo, come ho scritto in copertina un pezzo di pane, nel senso che riesce a essere quella che è la mia idea di YouTube, cioè, io ho detto nel video di Yotobi che inizialmente non guardavo YouTube perché pensavo fosse tutta una baracconata, una buffonata. Adesso non è che ho cambiato idea. Sì, prima pensavo che al 100% fossero tutti un po' dei, non lo so, ragazzini che facevano reaction, oppure scorreggiavano, oppure muovevano, non lo so, facciamo video scemi, un po' come adesso la gente ha l'opinione di TikTok, essenzialmente. Poi mi sono reso conto che non è il 100%, è il 95%, nel senso che, alla fine, i video che vanno, rendo conto sul mio canale, io mi faccio un culo così per portarvi dei contenuti, e poi vengono visti quelli improvvisati, fuori dal cinema, e magari ho lavorato tre giorni per portarvi dei contenuti, quindi il mio YouTuber di riferimento di questo anno e mezzo è Falco, perché mi dà qualità dei contenuti, serietà, tanto divertimento e una grande vastità dei contenuti stessi. Mi piace molto e uno potrebbe dire, ma, scusa, ma Falco Nero fa videogiochi? La casa dei Falchi, essenzialmente, parla di calcio. Ora, il calcio è una mia passione che seguo, a parte, poi lo vedete nei prossimi YouTube People. I videogiochi non sono la mia passione, cioè ci gioco, ma non sono un gamer, assolutamente, ci sono stati anni in cui non giocavo mai, anni in cui giocavo sempre, ora, una volta ogni tanto, ora sto incominciando così a giocare Deus Ex Human Revolution, perché voglio perdere un po' di tempo la sera e sono nervoso, ma non sono un gamer, assolutamente. Cioè, il nuovo gioco di grido, di richiamo, non me ne fai un cazzo. Io un gioco a più di 10 euro non lo pago, a prescindere, quindi figuratevi voi se mi metto dietro. Nonostante questo, io seguo Falco perché, nonostante non giochi, mi piace essere informato. Quindi, da un lato, la persona che mi fa ridere e mi sembra molto onesta in quello che fa, lo dice più volte, ci mette il fritto, come direbbe lui, cheat, mi piace molto, e poi perché mi informo su qualcosa in cui non sono esperto. E mi piace tanto questa cosa. Se hai una figura di riferimento, quello è il mondo videogiochi. Sulla parte del calcio, io tifo Milan, vabbè, non seguo proprio tutte le partite, però la Lazio non è una delle mie squadre preferite, però seguo tanti, tanti youtuber della Juventus, dell'Inter, della Lazio, della Roma, eccetera. Quindi mi piace il suo punto di vista sulla Lazio, che è sempre misurato. Quindi andiamo con calma. Sui videogiochi, mi piace e un po' alla mia stessa idea, cioè di spaziare su tutto il materiale possibile. Non a caso, le nuove uscite del mese, i giochi che consiglio, non è che siamo tanto diversi nel, non tanto gli iscritti, non tanto la qualità del canale, ma proprio per varietà di video. Non so se avete inteso quello che volevo dire. E mi piace il suo modo di fare. E mi piace come vede la sua professione. Mi fa molto ridere, ma è anche molto serio in certe parti. Quindi è il giusto mix. Poi una faccia simpatica, lo trovo davvero una persona amabile, se vogliamo dire così. Qualcuno può dire, eh sì, le caculo. No, non è quello. Perché se devo andare giù pesante con qualche difetto, uno ce l'ha, piccolino, e lo dirò alla fine. Mi piace il suo modo di fare. Tanto e spesso tengo i suoi video come sottofondo, anche se non mi interessa niente del nuovo gioco open world che devo uscire a marzo 2024, perché non lo comprerò mai. Però mi interessa, perché rimango informato. Lui è simpatico, poi con i tiettelo. Sul mondo del calcio mi piace, perché fa un po' FIFA, e quindi ci sono i vari meme. Chi lo sa, lo sa. Chi lo segue. E quando parla di Lazio mi piace, perché è un punto di vista che non vuole mai imporsi sugli altri. Ah, anche quando parla di videogiochi e di calcio. Non cerca mai la notizia, il leak, la polemica. È una cosa che mi piace. Lui dice spesso, non voglio alzare i toni. Ecco, una cosa che apprezzo molto, soprattutto in questo periodo, che essenzialmente caccia alla notizia più strana, per poi fare urlare, sbattere i pugni, e dire, ah, che scandalo, che schifo. Quindi mi piace il suo modo di tenere calma la situazione, perché mi rilassa. E io non sono un tipo affatto tranquillo. Cerco di far vedere i video. Alcuni mi dicono, beh, ma tu sei rilassante. Insomma, non lo so. Perché io non sono tranquillo e voglio che qualcuno mi tranquillizzi. Quindi funziona, secondo me. Ha pochi iscritti, perché meriterebbe molto di più. Ma, come sempre accade, se tu non alzi la voce, non cerchi la polemica, non cavalchi l'onda dell'hype, perdi un po' di, come dire, pubblico più ingenuo, quello che non vuole la qualità non ti primerà mai. Gradisco il fatto che lui dica, ho avuto questi problemi negli anni, e cerca un contatto con la sua community molto forte. Mi ha sempre appassionato. Io poi non sono uno che commento quasi mai, perché non mi piace. soprattutto in certi ambiti, dire sempre la mia è tutto. Però, devo dire che fa un bel lavoro. Ah, una cosa. Falco ha un grande pregio. La sua faccia esprime tanto. si mette in gioco sempre. Riesce a essere drammatico e comico. Sarebbe un bravo attore comico, uno alla Ben Stiller, se possiamo dire così, perché sa rendere interessante, sa fare anche l'intrattenitore quando ci vuole. Quando devi fare il serio, fa il serio. Quando devi fare l'intrattenitore. Quindi, in certi momenti suoi, anche su FIFA, o su altri giochi, o quando c'è il gioco, quando parla della Lazio, evita la querela. È molto, molto bravo, secondo me. Quindi, questo volevo dirvi, che in questo anno e mezzo mi sta riempendo tanto il tempo, nel senso che, mentre faccio altro, mi rilassa, imparo tanto sul mondo dei videogiochi. Sì, seguo anche altri. Però lui mi sembra più completo, sia come formamenti, sia come varietà dei contenuti. Mi dispiace tanto che il maestro Calarasi abbia finito i titoli. Questa è una grave, devo dire, una grave perdita per l'umanità. Due piccoli difetti, così non dicono che sono paraculo, che quando parla di serie TV e di film non sono tanto d'accordo. Va bene, abbiamo gusti diversi, ok? Così non dite che è bravo, bello e simpatico è tutto. E l'altro, che talvolta, è vero che è un pezzo di pane, che mi piace la sua compostezza, la sua tranquillità, il suo saper dire la cosa giusta, al momento giusto, ma ogni tanto lo vorrei un po' più cattivo, un po' più cattivo nell'accezione di garra, un po' più napoletano nel modo di esporsi, non che parli in napoletano, che ogni tanto dica la frase scomoda, ecco. Sarebbe bello che poche volte davvero si facesse sentire di più. Torniamo a marzo con un altro di Top People che questa volta tratta solo di calcio e è un interista, indovinate voi chi sarà. Va bene? Ciao ragazzi. Vi siete iscritti, vero?